Musica Benvenuti alla rassegna stampa di venerdì 27 gennaio 2017 questa è Fano TV e tra poco leggeremo i giornali, i titoli delle notizie più importanti pubblicate sulle edizioni pesaresi del resto del carino del Corriere Adriatico Il santo di oggi, oggi è una santa, Sant'Angela Merici, una santa che nacque a Desenziano del Garda in provincia di Brescia nel 1474, il padre è agricoltore, la madre appartiene alla piccola nobiltà e fin da giovane conduce una vita di mortificazione e preghiera Il sole è sorto alle 7.29 e tramonterà le 17.12, il tempo previsto per la giornata di oggi, venerdì vediamolo subito attraverso il bollettino meteo della protezione civile delle Marche che per oggi prevede cielo poco al più parzialmente nuvoloso, con temperature in diminuzione nei valori minimi i venti sono deboli, inizialmente settentrionali ma con tendenza a ruotare da sud nella seconda parte della giornata Oggi pomeriggio il lieve aumento, quindi domani anche le temperature nei valori massimi i venti saranno dai quadranti orientali, il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso Per domenica ancora non c'è tanto da raccontarvi, nel senso che il cielo sarà parzialmente nuvoloso per tutta la giornata le temperature sono senza variazioni di rilievo, i venti deboli dai quadranti settentrionali Probabili condizioni di tempo stabile sulla nostra regione anche nei primi giorni della prossima settimana con temperature in lieve aumento La cronaca locale ci riporta ad un episodio avvenuto nella giornata di ieri intorno a mezzogiorno quando una persona che è uscita di casa ha trovato davanti alla porta una specie di bomba rudimentale, un ordigno fabbricato un po' così con dei fili elettrici, delle batterie collegate insomma ha avuto paura giustamente e ha chiamato subito i carabinieri Di questo si parla in primo piano con la foto grande sulla edizione pesarese del resto del Carlino vedete scherzo o avvertimento? Un pacco sospetto davanti a una villetta di Lucrezia con batterie, fili e finti candelotti la zona è stata evacuata dai carabinieri Razzia in una scuola di calcio, la scuola di calcio azzurra sono andati via i ladri con una cassaforte e all'inter 1600 euro società sportive finite nel mirino dei ladri i carabinieri bloccano un albanese in fuga su un treno un pensionato, lo vedremo tra poco, cade invece e muore in una fabbrica l'incidente al Gallo di Petriano, era andato a trovare il genero al lavoro allora ripartiamo e cominciamo dalla pagina di Fano del resto del Carlino dove invece in apertura c'è il Carnevale di Fano con fumetti o cartoni è un carnevale della trasgressione, il 25 febbraio i cosplayer e poi le drag queen a Marina dei Cesari col Carnevalaz sarà dunque il Carnevale dei Carri con sette nuove opere d'arte in cartapesta sarà il Carnevale del teatro con due omaggi importanti a Dario Fo direttore, lo ricorderete, delle edizioni del Carnevale di Fano 2003-2004 sarà il Carnevale dello sport con la campionessa olimpica Valentina Vezzali in testa alla sfilata domenicale e questa è l'apertura poi il turista invece, il turismo, il problema del turismo a Fano e soprattutto di come acchiappare, stando al titolo del resto del Carlino come acchiappare il turista e portarla a Fano ecco il piano strategico, giovedì prossimo c'è un convegno sulla ricezione al Teatro della Fortuna di Fano parleremo, dice l'assessore al turismo Marchegiani delle opere necessarie per rendere sostenibile questo settore dicevamo della cronaca in primo piano a Lucrezia di Cartoceto scatola sospetta messa alla porta di casa arrivano i carabinieri e poi gli artificieri due batterie e pezzi di neon tagliati ex profumiere lancia l'allarme perché profumiere? Perché Beltrami, lo conosciamo tutti insomma ha avuto per tanti anni in gestione alcune note profumerie appunto che portavano il suo cognome mai avuto minacce, dice Domenico Beltrami e se si tratta di uno scherzo non ha riso nessuno e queste sono le fotografie di alcuni momenti in cui vedete ci sono i carabinieri, siamo praticamente sulla Flaminia sulla strada Flaminia che è stata bloccata poi per dare agli artificieri la possibilità di lavorare in sicurezza poi invece sui funerali di Jacopo il ragazzo di 24 anni di Ponte Sasso morto in un incidente stradale sabato scorso ancora non ci sono notizie da dare sulla data dei funerali ancora non si sa nulla resta comunque il dolore di una intera comunità ospedale ai privati, no grazie siamo a Cagli, un'infocata assemblea nei giorni scorsi il comitato respinge la proposta del consigliere regionale Traversini il diritto alla salute non si vende la scelta è solo politica protestano quelli del comitato non possono scaricare responsabilità sulla gente e poi ecco il taser guardatolo, assomiglia a un iPhone ma in realtà questo è uno storditore se vi arriva una scarica di queste cadete a terra e vi risvegliate dopo mezz'ora il travestito da iPhone l'ultima trovata del microcrimine è stato trovato a tre persone che sono state fermate nei giorni scorsi avevano appunto questo storditore elettrico nella custodia di un telefonino sono tutti giovanissimi e già nei guai si tratta di un italiano di 21 anni di un marocchino e di un albanese di 22 per la questura poteva produrre scosse potenti ed è un argeggio che ahimè si compra come molte cose che sono illegali anche in rete, anche su internet lo stipendio di un posteggiatore abusivo ne abbiamo parlato nei giorni scorsi qui siamo a Urbino però dove c'è un via vai perché il parcheggio in questione è quello dell'ospedale ebbene quanto può guadagnare uno di quelli che chiede l'obolo per farvi parcheggiare in serenità e voi per stare tranquilli e non avere la macchina rigata o problemi di sorta ebbene secondo questa inchiesta secondo questo articolo da 60-90 euro al giorno insomma è una bella cifra però c'è stata una vasta operazione della polizia che ha sequestrato parecchio denaro sono state controllate anche le abitazioni e le aree in degrado di Urbino e dintorni proprio per cercare di stroncare questo fenomeno che comunque sarà impossibile da stroncare e adesso invece andiamo sul Corriere Adriatico sempre dalla pagina di Fano cominciamo trovato una bomba davanti a casa la famiglia Beltrami di Lucrezia chiama il 112 arrivano anche gli artificieri la Flaminia è stata chiusa e la zona evacuata ma presto si scopre che il presunto ordigno è innocuo Domenico che è Beltrami appunto dice mai ricevuto minacce si tratta probabilmente di un brutto scherzo fino al 2013 padre e figlio ora a Miami avevano gestito una nota profumeria anche qui vedete lo spiegamento di forza davanti alla casa di Domenico Beltrami la foto è stata tratta da Fano TV in alto vedete ci sono poi qua i carabinieri all'ipermercato invece ruba indumenti e generali alimentari un giovane è stato notato dalla vigilanza e poi arrestato il giudice però lo libera subito per lanciare il turismo sempre dalla cronaca dalla pagina di Fano ci manca un palasport l'assessore comunale Stefano Marcheggiani dice si parlerà di ambiente e di infrastrutture mentre presenta appunto un altro convegno dedicato al turismo a Ponte Sasso invece hanno dato spiacevoli etichette parla il presidente del comitato noi vivere insieme a Ponte Sasso Evandro Sabatini che dice in maniera semplicistica hanno voluto affibbiare a noi di Ponte Sasso etichette spiacevoli che senza approfondire senza approfondire la tematica stiamo parlando del comitato che si batte per evitare che 32 giovani migranti vadano nell'ex colonia mater purissima di proprietà dell'Arcidiocesi di Urbino la regione penalizza Fano via il Battisti niente cecchi Carloni protesta per la perdita dell'autonomia dell'ITC l'altro consigliere il collega Talè invece dice non è finita qui alla Fornace siamo a Urciano terre roveresche alla Fornace resterà solo la ciminiera sono partiti i lavori il piano regolatore generale prevede un'area residenziale sarà ridisegnata anche la viabilità la struttura ormai la vedremo così solo nelle foto ricordo dice l'ex sindaco di Urciano di Pesaro Stefano Bacchiocchi ancora dalla Valle del Cesano rubano i soldi delle merendine a Mondolfo il colpo all'ex ospedale Bartolini testimoni segnalano subito l'episodio del 112 i carabinieri rintracciano tre sospetti denunciati cacciati con foglio di via il precedente invece l'estate scorsa al Santa Croce di Fano dove fu presa una banda di professionisti da Iesi si accendono altre 37 telecamere il grande fratello veglia sulla città la nuova area coperta dalla videosorveglianza va da Portavalle fino alla stazione ferroviaria a Falconara invece strade al setaccio controlli e multe task force in azione contro la paura sotto osservazione la stazione ferroviaria di Falconara e Villanova tolleranza zero di carabinieri e polizia locale Alberto Brunetti che è il comandante della polizia locale di Falconara dice entro febbraio ci sarà la riorganizzazione del corpo e ancora andiamo sulle ultime pagine del Corriere Adriatico Alessia Morani la senatrice insulti e minacce social lei pubblica e commenta così io non ho paura che cosa le hanno scritto ne leggiamo soltanto due sono terribili ma ti dico una cosa stai attenta a quello che dici in tv altrimenti non esisterai più capito oppure tutto quello che hai detto lo pagherai svergognata per te c'è un trattamento sperciale quando sarai sequestrata e condannata non temere addirittura terribili queste queste minacce Tavuglia si ferma invece per Foschi addio allo storico farmacista Gianfranco detto Giancarlo era stato per dieci anni anche vice sindaco dal 2004 al 2014 una persona molto disponibile e benvoluta da tutti titolare della farmacia di Via Roma praticamente nel cuore di Tavuglia è una di quelle persone che sono un po' una vera e propria istituzione ce ne sono un po' nei vari paesi ecco e questo a Tavuglia era proprio lui Foschi il cordoglio anche del sindaco Palmiro di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e poi la cronaca da Pesaro dove un 66enne un pensionato è scivolato dalla scala ed è morto tragico incidente alla fabbrica Fab vittima Alessandro Massi pensionato dicevo indagini per capire perché si trovasse lì è stata disposta anche l'autopsia l'uomo era suocero del titolare della ditta che stava lavorando sul tetto dell'azienda infine sulla tragedia dell'hotel Rigopiano anche oggi sulla pagina del Corriere Adriatico in primo piano un po' le ultime ore gli ultimi momenti e gli istanti di vita di queste vittime ricordiamo sono 29 in totale ormai la cifra è definitiva il bilancio è definitivo 29 vittime 15 uomini 14 donne ci sono anche vittime marchigiane come Emanuele Bonifazi di 31 anni di Pioraco Marco Tanda 25 anni di Gagliole poi Marco Vagnarelli di 44 anni di Castignano e Paola Tomassini 46 anni anche lei di Castignano poi ancora Domenico di Michelangelo 41 anni di Osimo e Marina Serracollo 37 anni di Osimo genitori sono i genitori di Samuel l'unico bambino marchigiano 7 anni che si è salvato e nella fotografia vedete l'immagine dell'hotel Rigopiano con le lettere che riportano nella grafica la mappa dove era il ristorante dove era la cucina e praticamente in questo articolo si può leggere e si può capire un po' che cosa hanno fatto dove erano dove si trovavano vittime e sopravvissuti prima che la valanga di neve scendesse li colpisse in pieno la morte li ha sorpresi al bar questo è il titolo Emanuele Marco Paola e i genitori di Samuel erano in quell'area vicino alla hall dell'albergo Tanda invece è stato trovato nella zona della televisione con questo noi ci fermiamo qui vi ringrazio per aver seguito Occhio ai giornali l'appuntamento per domani mattina come sempre in diretta alle 7.30 noi invece ci rivedremo questa sera per il telegiornale Occhio alla notizia vi ricordo che per tutte le vostre segnalazioni le vostre segnalazioni sono per noi fondamentali perché poi noi abbiamo la possibilità subito di muoverci di verificare di andare a vedere e la sera darvene conto quindi è importante i vostri occhi sono le nostre prime telecamere a voi tutti l'augurio di una buona giornata arrivederci a presto a presto a presto a presto a presto